Il San Nicola è un momento molto importante per la comunità pesarese e non solo, quest'anno c'è un'esplosione di richieste, anche di bancarelle e di espositori, questo è quello che ci arriva da Aspes e Pesaro parcheggi che gestiscono l'evento. La viabilità subirà qualche momento di forte criticità perché la zona del mare, dalla statale di Viale della Vittoria fino a Viale Trieste, subisce come sempre delle modifiche e quindi avrà delle criticità importanti. Noi veniamo incontro a quelle che possono essere le esigenze dei cittadini rispetto al parcheggio, rispetto alle code che possono essere più lunghe del solito, attraverso la messa a disposizione di navette che partiranno dalla zona del McDonald's di Perrossini, quindi via Grande Torino, per chi arriva dall'interno. Il solito parcheggio del San Decenzio per chi vive in città. Ovviamente la viabilità deve garantire percorsi di sicurezza che passano attraverso la zona di via Zanelli, il lato sud di Viale Trieste, fino a via Colombo per uscire in via Zara e poi i mezzi si mettono e ritornano sulla statale. Si fa particolare attenzione al transito dei mezzi di sicurezza perché è prevista una grande affluenza di pubblico e quindi dobbiamo garantire tutti i presidi necessari. Ovviamente la zona Porto, anche quella, subisce delle variazioni soprattutto su via Napoli e non sarà più a senso unico ma avremo la possibilità di fare un torno indietro. L'invito che noi facciamo a chi verrà alla fiera, ai pesaresi, di muoversi a piedi con il bontorino e le biciclette, a chi viene da fuori utilizzare le navette che garantiscono il loro servizio fino alle 23.30. Il divieto parte sostanzialmente dalla notte di venerdì, tra venerdì e sabato, per poi allungarsi fino alle lunedì notte.